io l'ho dato gesù cristo il cielo attraverso profeti e mistici ci avvisa dell'urgenza di avere informato stampa i libri delle rivelazioni mariane per ricordarci quando non avremo internet e la tecnologia a causa della guerra dell'anticristo degli eventi e profezie che si compiranno oltre alle preghiere sacramentali che ci occorrono adesso prima che siano impossibili da trovare in descrizione troverete il link per accedere ai miei libri io l'ho dato gesù cristo benvenuti fratelli e sorelle in questo ottavo capitolo con la lettura è una breve spiegazione personale da parte di questo dipinto del 1951 la gloria in excelsis dio quindi la gloria di dio da parte di questa mistica pittrice maria magdalena definita da parte di un professore di parapsicologia dell'accademia cattolica di vienna una pittrice mistica benedetta questi quadri come ripetiamo sempre descrivono il nostro futuro il nostro destino quindi ci immergiamo nella lettura e poi ingrandiremo il quadro per poterlo vedere da vicino e apportare una nostra spiegazione personale ispirata dallo spirito santo il primo simbolo che doveva venire dipinto sul quadro era il cuore divino con le tre fiamme dentro sette anelli raggianti due mesi prima di iniziare a dipingere la pittrice ebbe una visione vide uscire cristo da questo cuore come persona divina teneva in mano il globo terrestre e camminava verso maria la quale mezzo inginocchiata era pronta a prendere in consegna il globo su questa opera pittorica vennero poi aggiunte ancora le restanti figure san michel arcangelo che consegna la spada la lotta è terminata nella parte inferiore del quadro sono simboleggiata tutte quattro le razze la purificazione compiuta al ringraziamento e al canto di lode degli uomini sulla terra si uniscono i cori degli angeli in cielo essi cantano gloria in excelsis deo gloria a dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà un significato particolare riveste lo stemma con cifre e segni nel quadro in alto che esprimono una verità divina cristo nostro salvatore redentore e dio sia lodato gesù cristo nel cuore immacolato di maria ecco posizioniamo bene il quadro e vediamo che in questo quadro gesù ha la terra in mano vediamo che la terra in mano nelle mani di gesù è una terra rinnovata una terra con dei bei colori dei colori molto diversi rispetto a quelli che la terra a oggi perché la terra di oggi è una terra inquinata non solo dal peccato ma anche dal consumismo dal materialismo dalla plastica dal nucleare dalla radioattività e quindi da un insieme di gas e malattie nocive che rendono questo pianeta a momenti non molto abitabile gesù però port cammina cammina tra le nuvole quindi cammina nel cielo e porta questo 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 pianeta quindi la nostra terra lo porta come come scettro come corona vittoriosa poiché il mondo sta per entrare nella nuova era di pace se michel arcangelo e la vergine maria sono in ginocchio come vediamo anche la vergine maria è simboleggiata da un altro sole poiché ella è la donna vestita di sole che ha dichiarato guerra al dragone inferno infernale san michel arcangelo prende la sua spada infuocata la spada della giustizia divina e la depone in ginocchio ai piedi del nostro re signore gesù cristo insieme a tutta la gloria divina che sta in alto a destra in alto a destra vediamo tanti tanti angeli custodi tanti angeli che come come vediamo in queste in queste figure gli angeli volano ma non hanno le ali perché le ali e sono un simbolo che sta a identificare che gli angeli volano ma non è che le ali servono per volare gli angeli volano senza le ali e su questo canale youtube ho postato spesso dei video con questi globi luminosi all'interno nei quali ci sono gli angeli che vengono a visitarmi a donarmi segni che poi comunque carico su youtube che faccio vedere di spiego ma non la gloria di dio gli angeli e quindi oggi sono presenti in tutto il mondo molti attribuiscono tutte queste luci che si muovono nel mondo nel cielo come un segno ufologo extraterrestre in verità sono i nostri angeli sono le sante regioni di san michel arcangelo che vengono a proteggerci e a proteggere il popolo di dio il popolo eletto il piccolo resto sparso in tutto il mondo per in per portarlo a gesù per portarlo nel nuovo cielo e nella nuova terra in basso vediamo che ci sono queste quattro figure di uomini e donne che sono che sono nudi sono nudi perché sono stati spogliati purificati dal peccato e poi vediamo questo mondo purificato dove vediamo al centro vediamo questa grande croce che divide gli angeli da altri esseri perché gesù è venuto attraverso la sua seconda venuta attraverso il regno di pace viene a dividere il grano dalla zizzania viene a prelevare il suo popolo santo il suo popolo eletto e poiché la zizzania verrà gettata nel fuoco e i restanti abitanti della terra impareranno a vivere nella divina volontà rivelata luisa di carreta e con questa figura bellissima abbiamo in alto a sinistra il sacro cuore di gesù vittorioso in questi anelli che che come abbiamo letto nella descrizione sono sette come sette sono gli arcangeli di dio ogni raggio rappresenta un arcangelo e questo sacro cuore di gesù è così luminoso perché ha vinto ha vinto il demonio che è stato legato come abbiamo visto nel qualche quadro precedente per un e verrà legato per un certo numero di anni noi sappiamo che la santissima trinità ci ha donato attraverso vari mistici di conoscere quanto durerà questo regno di pace sulla terra sarà una grande prova durerà circa mille anni e poi il diavolo verrà lasciato di nuovo libero e si troverà davanti un mondo innamorato di dio e quello e quell'amore lo annienterà perché questo è la fine che farà il diavolo si troverà in un mondo purificato rinnovato dall'amore di dio un mondo che ha un amore così forte e non ci saranno seguaci che attenderanno il diavolo non ci saranno generazioni precedenti che continueranno la loro vita nel nuovo mondo ci saranno soltanto uomini e donne scelte da gesù e quindi tutte le generazioni future non avranno a che fare con il peccato poiché la vita durerà molto più di 200 300 anni ci saranno delle generazioni sante che vivranno tutte nella divina volontà cioè vivranno come le anime vivono in cielo e quindi il sacro cuore di gesù è vittorioso e gesù vediamo che cammina cammina e questo mondo lo porta alla sua santa madre questo mondo che è stato consegnato precedentemente nelle mani della santa madre attraverso tutte le sue apparizioni per preparare il mondo alla seconda venuta di gesù alla battaglia con l'anticristo alle catastrofi naturali la perdita della fede la terza guerra mondiale l'apostasia generale del mondo e oggi viene in questo quadro verrà riconsegnato rinnovato perché questo mondo è una creatura della vergine maria questo siamo tutti figli della santissima vergine maria e gesù lo porta a maria maria con le braccia aperte attende questa nuova figlia la terra purificata affinché possa ricevere da parte del suo cuore immacolato l'introduzione nel nuovo regno di pace dove la vergine maria gli angeli nostro signore gesù cristo cammineranno con i loro corpi resuscitati che saranno anche fisici gesù e la madonna si prenderanno cura per un certo tempo della terra e la terra avrà l'infinito bene l'infinito amore i giovani tutti giovani perché saremo tutti giovani in questo nuovo mondo avremo delle non solo avremo delle visioni dirette con dio avremo dei doni grandissimi molto più grandi di quelli che abbiamo oggi vedremo e toccheremo gli angeli la vergine maria gli arcangeli santi gesù in carne e ossa e vivremo in un mondo che sarà un eden come come dio lo ha pensato come dio lo ha pensato